Musica Prendiamo un cartoncino di base bianco abbastanza spesso e lo pieghiamo a metà Prendiamo poi due cartoncini più piccoli di colore rosso o rosa Incolliamo i cartoncini nelle due facciate di copertina Prendiamo i cartoncini più piccoli Utilizziamo ora un cuore di carta con effetto pizzo e lo dividiamo a metà Poi con la colla stick incolliamo le due metà rispettivamente davanti e dietro al biglietto Stampiamo ora il modello dei cuori per la decorazione e li ritagliamo Sempre con la colla stick li incolliamo alla card Possiamo usare un timbro oppure scrivere una frase a mano Ora con una foratrice creiamo un foro nell'esatto centro del biglietto dove faremo passare dello spago da cucina Grazie a tutti Grazie a tutti Una volta creato il fiocco la nostra card è pronta Alla prossima e buon lavoro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.